Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale di Spetsnaz. Oggi siamo tornati qua dopo tanto tempo su War Thunder dove finalmente per la prima volta inizio a portare sul mio canale anche i mezzi cinesi. In particolare oggi andiamo a vedere l'M8LAC. La sigla LAC significa Light Armored Car. Questo mezzo, precisiamolo fin da subito, è un autoblindo, quindi non è un car armato. Perciò l'autoblindo e i car armati leggeri, come ho già spiegato molte volte, sono adatti solo esclusivamente per la ricognizione o fornire supporto alla fanteria alleata. Bisogna anche specificare che questo non è un mezzo di fabbricazione cinese ma è di produzione americana. E mi spiace deludere fin da subito certe persone però dall'albero tecnologico cinese ci si può aspettare veramente poco e nulla di produzione cinese. Infatti come car armati cinesi veri e propri si inizia dall'era 4 in giù, ma non tutti, precisiamo, non tutti. Scusate, lo so che adesso molti di voi saranno delusi però purtroppo bisogna dire anche le cose come stanno. Come armamento principale parliamo di un cannone da 3,7 cm e questo si trova nei car armati leggeri americani come l'M2A4, l'M3A3 e l'M5A1. Poi una mitragliatrice da 12,7 mm più conosciuta come la calibro 50 e una mitragliatrice quassiale da 7,62 M1919 più conosciuta come Browning. Il tempo di ricarica di ogni proiettile per il cannone è di 3,7 secondi, piuttosto poco, mentre la corazzatura dello scafo sia nella parte frontale, posteriore e laterale è di 1,9 cm, mentre la corazzatura della torretta uno spessore minimo di 5 mm ad un massimo di 1,5 cm, piuttosto basso però precisiamo, è un autoblindo, non è un carro armato leggero o medio o pesante. La penetrazione del proiettile è molto alta a queste distanze. L'equipaggio è di 4 persone, la massa del mezzo è di 7,9 tonnellate, la potenza del motore è di 159 cavalli che garantisce una velocità massima di 101 km orari, molto elevata. E andando a vedere con la corazzatura potete notare gli spessori come sono variabili, soprattutto nella parte laterale, posteriore e lo spessore massimo in questo caso è qui, nel mantelletto della torretta. Andando a vedere con i raggi X possiamo notare il posto per il mitragliere, anche se non c'è una mitragliatrice a prua del mezzo, perciò non vedo il perché l'abbiano chiamato così, poi il periscopio e il periscopio di sinistra per permettere quindi all'equipaggio, soprattutto in particolare al pilota, di poter vedere, sennò va alla cieca in poche parole, la trasmissione, la stiva munizioni di sinistra, poi c'è questa qua di destra, il serbatoio del carburante, il motore e il radiatore. Poi questo è il puntamento orizzontale, la stiva munizioni attorno all'equipaggio che alloggia nella torretta, la calibro 50, l'ottica, il cannoniere, poi l'armamento principale, cioè il cannone da 3,7 mm, la mitragliatrice quassiale e infine il capocarro, anche se in questo caso svolge una duplice funzione, ossia che oltre a gestire l'equipaggio deve caricare il proiettile nella culatta del cannone per permettere all'artigliere di sparare contro i bersagli. Andando a vedere le modifiche, che come sempre consiglio a tutti di sbloccare proprio tutto quello disponibile perché rende il mezzo ancora più efficiente, il proiettile che consiglio più di tutti è l'ultimo in quanto maggior perforazione. Che dire, spero che l'M8 e l'AC vi possa piacere, fatelo sapere con un commento e detto ciò cerchiamo la partita. Che dire, spero che l'M8 e l'AC vi possa piacere, fatelo sapere con un'acqua, che dire, spero che l'M8 e l'AC vi possa piacere, fatelo sapere, fatelo sapere con un'acqua, che dire, spero che l'M8 e l'alf stimulationzione, fatelo sapere, fatelo sapere addiole, fateloước, fatelo sulla c OWU'IÏEUK similar, l'AC qu Randall ti preoccupate busche s snaps sulphолотe file o'więc aixòia e precisà fare, fatelo sapere, fatelo sapereo islandare attrae all'acqua trentano e statole condale, fatelo sapere rlambopo agro a destra sb formattingra più Shoutosيا! sharpinki sunt 추천 aprova un'acqua che un'acqua che stagge, fatelo sapere! grammatralba pagare un vaccino! Grazie a tutti. 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 Spero che vi sia piaciuto questo mezzo, fatelo sapere con un commento o con un mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, fate girare la voce del mio canale. Qua da Speznaz e dall'M8 e la C è tutto, grazie ancora per la visione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.